ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video una recensione veloce di un oggettino perché ogni tanto capita anche a me di comprare qualche cavolata su qualche sito cinese uso molto spesso banggood perché spedisce da magazzini europei sono molto veloci i prodotti sono insomma se sapete sceglierli di qualità apprezzabile o almeno rapportata al prezzo un marchio che uso molto compro molte cose non ho mai fatto i video finora ma magari a qualcuno può interessare quindi quando tempo qualche video veloce di questi lo faccio ad esempio ho comprato una stazione meteorologica perché quella che avevo si era scassata ho guardato su amazon c'erano dei modelli che o avevano pochissime funzioni oppure costavano un sacco di soldi sono andato a vedere su banggood ho trovato questa costa 42 euro non ha niente di eccezionale però ha una cosa molto carina che è connessa si connette alla sua applicazione tramite il wifi a 2,4 questo ci permette di avere informazioni sia sulle previsioni meteo che interrogare la stazione magari da remoto tramite la nostra applicazione insomma aveva qualche funzione carina l'ho comprata l'ho provata funziona bene ve la faccio vedere e magari vi può tornare utile ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale blitzwolf si chiama bv vs 04 ok partiamo qui dalla stazione diciamo dall'unità principale abbiamo uscita usb ingresso per l'alimentazione a 5 volt vano per tre mini stilo piedistallo per appoggiarla sul comodino la scrivania o quello che sia gancio per appenderla invece a parete e null'altro sopra abbiamo tutti i tasti questo è il sensore da esterno che ha bisogno anch'esso di due mini stilo e il cavetto per alimentare la stazione ma l'alimentatore non è in confezione probabilmente in cina sono abituati tutti ad avere le usb a muro diamogli alimentazione non è un display lcd ad alta risoluzione ci sono delle matrici che si illuminano adesso impariamo un po a conoscerla dunque il tasto alert va premuto a lungo per impostare il valore di temperatura per il quale deve generare un allarme mem controlla i valori massimi minimi questo serve a cambiare il canale dell'unità esterna lo snozzo ritarda la sveglia o regola la luce e serve anche per ripristinare l'associazione da un serve per cambiare da gradi centigradi a gradi fahrenheit app visualizza il valore massimo e valore minimo modalità sveglia dunque iniziamo a prendere un po di mini stilo amazon le inseriamo nel lettore esterno diciamo qui c'è l'impostazione del canale possiamo scegliere 1 2 o 3 abbiamo anche un pulsante di reset con il tasto ch qua sopra possiamo scegliere il canale ok nel momento in cui ho inserito le pile ha subito visto sul canale 1 il primo sensore mi dà qua la temperatura che legge l'umidità e lo stato della batteria qui abbiamo le previsioni domani dopodomani eccetera eccetera che sono ancora tutte da sincronizzare perché questa stazione meteo sarà connessa poi all'app mettiamo le tre mini stilo anche nell'unità interna queste qua in realtà serviranno solo di backup vedete che adesso è accesa se stacco il jack rimane comunque accesa questa porta è una porta che serve per caricare ad esempio uno smartphone quindi se avete un'unica porta usb disponibile la fate entrare dentro la stazione e la fate riuscire verso il dispositivo ok io intanto vado a mettere il sensore che dia sull'esterno adesso internamente mi rileva 27.6 gradi e 58 per cento all'esterno mi rileva 31.9 gradi e 48 per cento andiamo direttamente dentro smart life mettiamo il dispositivo in modalità accoppiamento quindi bisogna tenere premuto tre secondi il tasto centrale light snots anziché lampeggiare tutto wifi lampeggia solo questo puntino sotto allora in modalità accoppiamento vediamo se riusciamo aggiungerlo da qui lui fa già una ricerca dei dispositivi in corso e me ne ha trovato uno lo chiama previsioni meteo ok diamo nome e password della rete wifi aggiunta in corso attendiamo l'ha preso correttamente gli cambio il nome lo chiamo stazione meteo e clicco fine notate che immediatamente il wifi è diventato fisso si è automaticamente aggiornata l'ora e la data e mi sta dando anche già le previsioni dei prossimi giorni clicchiamo fine vediamo un po cosa possiamo fare nell'applicazione allora torniamo indietro stazione meteo entriamo dentro quello che visualizza sulla stazione lo vediamo anche nell'app quindi temperatura interna 27 5 con 54 per cento vedete che mi legge solo il primo sensore 35 9 38 per cento qui possiamo impostare gli allarmi quindi cliccando qua sotto qui possiamo impostare le sveglie quindi se tutti i giorni ad esempio adesso impostiamone una alle 16 e 41 così abbiamo il tempo di pacioccare e diamo conferma adesso aspettiamo ok vedete che è partito l'allarme con un bip diciamo molto lieve a 10 secondi inizia ad aumentare come intensità e velocità a 20 secondi aumenta ancora ulteriormente a 30 secondi diventa un bip continuo dopo un minuto è sempre uguale quindi se premo il tasto qua sopra interrompo la sveglia nelle impostazioni della sveglia non c'è modo di scegliere la suoneria o il volume cos'altro possiamo fare nell'app qua sotto in temperatura allerta con l'ingranaggio possiamo impostare sull'indoor quindi l'unità interna intanto si abilitare o meno l'allarme e possiamo abilitare l'allarme quando raggiunge un minimo e un massimo quindi possiamo dirgli che a 43 gradi mi va in allarme e a meno 6 mi va in allarme stessa cosa possiamo farla sull'unità esterna 1 2 3 in questo caso ne abbiamo solo una quando raggiungerà la temperatura di allarme manderà in allarme sia la stazione che riceveremo una notifica abbiamo qua anche una curva grafica dell'andamento delle temperature possiamo scegliere sotto anche la giornata quindi tiene memoria dell'andamento delle temperature e da qui possiamo anche scegliere l'umidità o umidità e temperatura dei vari sensori storico che possiamo anche scaricare con questo pulsante qui mettiamo una mail messaggino vedete in tempo reale ci arriva una mail da smart life con history data of device qui c'è il testo facciamo clic download sta scaricando un file lo apriamo arriva un file di excel con la tabella e tutto lo storico delle temperature rilevate ogni ora oltre lo storico abbiamo qui l'impostazione della dell'unità di temperatura da visualizzare lui prende automaticamente la posizione mi prende direttamente proprio il mio paese che è san benigno canavese quindi tutte le previsioni saranno riferite a questo luogo l'ha preso sicuramente col gps o con la geolocalizzazione tramite la rete wifi so solo che ha beccato il paese esatto e non tutte le app e non tutti i dispositivi beccano il mio piccolo paesino nell'app ci dà anche i livelli di batteria dell'unità esterna e delle batterie di backup dell'unità interna qui non abbiamo altro è interessante il fatto che possa essere appesa a parete se riusciamo a metterla sopra una 503 o da qualche altra parte deve essere anche carina da tenere appesa a me quello che interessava era visualizzare la temperatura esterna quando sono chiuso in casa col condizionatore e tutti questi dati potete consultare anche da remoto tramite l'applicazione che si collegherà effettivamente alla vostra stazione che a casa o nella seconda casa o il luogo dove è stata installata per controllare che temperatura c'è e che umidità c'è sia dentro che fuori questo per eventualmente far partire dei condizionatori dei riscaldamenti eccetera eccetera ve l'ho fatta vedere secondo me vale quello che costa non è né regalata né troppo cara è carina non ha un display super tecnologico però comunque nella sua posizione avete visto che si vede bene mi interessa molto il lato controllo da remoto perché riesco a capire quando sono via che temperatura c'è fuori e che temperatura c'è dentro l'ho presa adesso prima delle ferie perché mi interesserà capire le temperature e l'umidità per valutare anche eventualmente quando bagnare il giardino da remoto e fare altre funzioni sicuramente può tornare utile anche l'inverno perché magari avete un controllo della caldaia connesso ma potete solo accendere e spegnere con un dispositivo del genere fate anche da lettura temperatura e umidità e magari può tornare utile in un sacco di situazioni ve l'ho fatta vedere se vi piace vi lascio il link in descrizione se vi è piaciuto il video un bel like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera io intanto vado avanti con la costruzione di fotovoltaici e robe varie ciao da massi dattoli grazie a tutti